E adesso vi diamo le anticipazioni il segreto o il secreto de tuente e veio secondo il titolo che la fiction ha nel suo paese di origine, la Spagna. E partiamo subito quindi con quanto accadrà questo lunedì. Luned 24 novembre. Mentre Maria cerca di placare Gonzale per farci capire che in questo momento è importante che rimanga vicino a Don Anselo, Olmo viene a conoscenza del fatto che Roca ha allontanato da casa Pia. Martedì 25 novembre. Maria a sorpresa scopre che non è in stato interessante di Gonzale. Mentre Candela si offre di dare ospitalità a Pia. Mentre Dolores e Pedro concedono la loro benedizione per quanto riguarda il fidanzamento fra Ippolito e la sua fidanzata Quintina. Mercoledì 26 novembre. Olmo non si fida di lui se fa pedinare, nella convinzione che lo stesso stia complottando qualcosa contro Soledad, mentre Ayala non ha la minima idea di cedere all'ultimatum che le ha fatto Raymond e passa ad attaccarlo a sua volta. Giovedì 27 novembre. Tristan si confronta aspramente con Don Celso, che però non vuole recedere dalle sue convinzioni. Mentre Maria è irreperibili e tutti gli abitanti della villa si mettono alacremente a cercarla. Venerdì 28 novembre Pablo si reca in visita a Maria e svela ai familiari che la ragazza ha avuto una violenza. Maurizio torna a Uenteviein per mettersi agli ordini di donna Francisca, mentre Emilia e Mayrana svelano che Francisca si è recata a Madrid alla ricerca di un investigatore, in quanto non ripone la sua fiducia su RR, ma in verità è stata presa da Sebastian.